buongiorno signori cari belli hola bagai come la va il mio saluto lo farò sempre perché a me piace e so che a voi a tanti di voi piace quindi siamo qui con un nuovo video siamo qui sempre su youtube con altre novità di clash clash e visto che siamo a fine mese le solite novità quali sono riguardano nuove skin in arrivo nuovo pass per la precisione c'eravamo lasciati a febbraio che c'è stata la skin del warden guerriero ma c'era un filone che si era interrotto poco tempo fa quindi devo darvi news a riguardo signori però prima di farvi vedere tutto un bel like iscrizione al canale guardate in descrizione che ci sono tutti i nostri social mi raccomando seguiteci qua sia su youtube che sui nostri social che sul sito viola dove portiamo tante live poche ne portiamo su youtube poche ne portiamo su twitch non è vero ne portiamo tantissime ultimamente quindi seguiteci 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 a il code creator haplo pass non pass scioppatina non scioppatina code haplo bene andiamo sul gioco e guardiamo un po quello che ci aspetta dicevamo c'era stata la skin del warden guerriero a febbraio che siamo praticamente arrivati alla fine tanti di voi l'avranno presa non lo so era questa qui mese prima però nella queen ricordate che c'era questa skin particolare la regina delle ombre bene bene continuiamo il filotto ma come tante volte spesso accadeva che c'era il re o addirittura il warden stesso perché erano un po gli eroi principali diciamo così e quelli più spesso posseduti no stavolta no si va sulla campionessa quindi campionessa cambia skin eccola qua campionessa delle ombre mascherina lanterna a forma di teschio c'ha una pala come vedete come arma la treccia azzurra che riesce fuori da un buchetto nel nel cappuccio tutta inghindata bellissima direi bellissima dobbiamo anche vederla un po nel villaggio no se no che recensione andiamo anche spostarla magari in un angolino più ottimale qua mi piace di più no non c'è un posticino dove posso metterti dove sei non c'è voglio metterti qua nell'angolino la vediamo un po meglio un mattino tattico la intanto cammina cammina si sposta voilà se ti clicco sempre solito saluto ok dobbiamo vederla in azione assolutamente quindi vai villaggino facile facile per te ti piazzo dall'angolino più lontano e che ci combini con la tua pala la tua lanterna vai tranquilla la lanci la pala come effettivamente fai con la tua arma solita che è una lancia vai per distruggere il villo abilità com'è lanci lo scudino qua la lanterna a forma di teschio quindi non è più uno scudo ma è una lanterna ma la lanci lo stesso carino l'effetto carino carino dobbiamo vederlo su un villaggio più complicato come crolla e tutto il resto proviamola qua su goblinopoli allora sempre a partire dall'angolino usiamo l'abilità un attimino di più ti voglio vedere in azione ok eccoti qua ko ko crolla la testa c'è in mano la tua pala lo scudino la lanterna l'abbiamo lanciata quindi non ce l'ha più in tuo possesso ok diciamo che più o meno l'abbiamo studiata nei dettagli no resta da vedere soltanto quando recupera energie nel villaggio com'è la storia eccola qui no perché adesso ci abbiamo due vite è vero fail mega fail dobbiamo riprovarci dobbiamo farlo andare ko un'altra volta sempre qua goblinopoli dai sempre in azione sempre con la tua abilità da crollerai un po più in fretta perché non ho più la g alla disposizione sempre tutto come prima perfetto i due cuori non ce li hai più la tua vita extra non ce l'hai più vediamo com'è eccoti qua che recuperi energie con la lanterna appoggiata al tuo fianco tu sei tranquilla con la pala sei seduta in posizione anche abbastanza composta ne abbiamo visto ultimamente di tutte le posizioni di riposo degli eroi questa direi che è anche abbastanza composta signori vi piace la skin io voglio sapere i vostri commenti come al solito dovete partecipare ai miei video io vi do le info e voi dovete andare in descrizione sotto c'è una sezione commenti e scrivere ci piace la skin compreremo il pass useremo il tuo code non lo useremo perché ci stai antipatico dovete dirmi tutto che io leggo e sono curioso ok perfetto così e niente lasciate like iscrivetevi al canale ci vediamo in live ci vediamo con nuove video su youtube o sul sito viola bye bye ciao